Adesso riapro il dibattito, però scusatemi, mi è arrivata una notizia molto dolorosa francamente perché è morta Carla Fracci, aveva 84 anni, è stata una ballerina straordinaria, lo sapete tutti Eugenio Montale l'aveva definita un'eterna fanciulla danzante pare ci dicono le cronache quando Charlie Chaplin l'aveva incontrata, l'aveva detto You are wonderful ed era veramente un essere meraviglioso, lo era sul palco dei grandi teatri l'ho vista da piccola, me lo ricordo ancora a San Carlo con mia nonna, è stata una Giselle meravigliosa ha fatto veramente dei balletti straordinari, l'altra cosa che trovavo di lei, la conoscevo personalmente è che è stata una donna molto particolare, è stato un grande mix di concretezza, di leggerezza non è mai stata snob, era una grandissima, forse la più grande ballerina vivente, anzi direi di sì ma era contemporaneamente una donna straordinaria che aveva saputo avvicinare la danza classica al pop alla televisione, era una persona molto normale, faceva mille cose, mille iniziative, era generosa faceva beneficenza, insomma è stata una grande donna, è stato un vero orgoglio per tutti gli italiani e fatemelo dire per le donne italiane, perché è stata una grandonna Carla Fracci tra pochissimo torniamo